Ciao da Apsim, analisi tattica di Sampdoria, io metto 0 a 0, o comunque approfondimento tattico, eh sì, no no no, ci tocca, lo dobbiamo fare, e ho anche rivisto la partita, no sul serio, ho rivisto la partita e non mi hanno ricoverato, sto bene, sto bene, no, l'ho rivista perché andava comunque rivista, sono riuscito anche a rimanere sveglio per andare ad approfondirla. Perché approfondire a due giorni di distanza, a livello tattico e con numeri e statistiche, una partita che non è stata una partita di calcio, o meglio, la prestazione della Juve non è stata la prestazione di una squadra di calcio, non era sport definibile come calcio, perché dobbiamo tenerla bene a mente, e come si dice, conosco i miei polli, cioè so come vanno le cose, se la Juve dovesse battere la Roma o vincere una qualunque delle prossime partite, fin tanto che c'è Allegri in panchina, si tornerebbe a dire, ecco vedi, abbiamo vinto una partita, come se vincere una partita fosse qualcosa di straordinario per la Juve, vedete un po' come siamo ridotti, mentre questa prestazione la dobbiamo tenere stampata in testa, ma non perché dobbiamo avere un pregiudizio negativo e non apprezzare tutto il resto che dovesse venire, quindi le prossime vittorie, ma perché questa prestazione ci dà il peso specifico di questa Juve in questa stagione e soprattutto per cancellare questa prestazione non basterà una vittoria, non ne basteranno forse neanche dieci, servirà una dimostrazione di forza che non si è vista contro la Sampa, servirà proprio un'altra Juventus, quindi teniamola bene a mente, non facciamo come al solito che dimentichiamo a distanza di pochi giorni quello che è stato e quindi andiamo di trionfalismi appena si fanno tre punti, non si sa manco come, tipo come è successo con il Sassuolo. E lo dico anche per inserirmi nel discorso dove sono finiti gli allegriani, poi sono rispuntati un po' fuori, con le solite argomentazioni su Allegri che ha vinto 5 Scudetti, rispetto per un professionista, eccetera eccetera, però fondamentalmente, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, c'è una situazione di grande critica, di grande insoddisfazione e malcontento da parte della tifoseria, al punto che oggi Tutto Sport ha addirittura messo in prima pagina un certo malumore da parte della dirigenza nei confronti dell'allenatore, cioè sta cambiando il mondo, il che mi fa pensare che la partita contro la Roma potrebbe essere decisiva come minimo per aprire una crisi, non necessariamente per un esonero, che secondo me sarebbe impossibile in questo momento. Intanto però fatemi sottolineare che ieri, giorno dopo, Stamperio e Juventus 0-0, indovinate un po', la Juve? Esatto, non si è allenata, giorno di riposo! Allegri aveva detto che il giorno di riposo era bello quando si vinceva perché c'era anche il giorno di riposo, non si è vinto, si è giocato malissimo e hanno dato lo stesso, giorno di riposo. Cosa possiamo sperare di fare di buono contro la Roma? Non lo so. Mi auguro che almeno quando si allenano, si allenino bene, ma il campo ci dice il contrario. Poi, prima di entrare appunto nei dettagli, mostrare anche una grafica e sottolineare i numeri veramente assurdi di questa partita, lasciatemi esprimere anche alcune perplessità e fare dei ragionamenti. Per esempio, riguardando la partita, io mi sono accorto che i giocatori della Juventus non hanno proprio voglia di andare a prendere la palla quando ce l'ha l'avversario. Ma com'è possibile una cosa del genere? Ve lo siete chiesti? Cioè, i giocatori, i calciatori, dovrebbero desiderare il pallone il più possibile. Posso capire, magari dopo uno strappo sei un po' stanco, rifiati e poi ricominci. Ma invece lì non si trattava di essere stanchi, si trattava di essere proprio fermi e lasciar palleggiare gli avversari aspettando l'errore, più che in qualunque altra partita. Allora, questo mi fa pensare che sia una richiesta specifica dell'allenatore e che i giocatori sanno che se vanno ad aggredire alto, se vanno a far pressing, l'allenatore non è contento, li rimprovera perché gli ha detto di fare altra roba. E allora la responsabilità dell'allenatore, come vedete, c'è, non solo negli sviluppi tattici ma anche nell'involuzione dei giocatori, perché dimenticano come si fa a riconquistare la palla, che è parte integrante dello sport chiamato calcio, da sempre, anche nei famosi anni Ottanta a cui Allegri dice di rifarsi. Ok? E questa è una cosa veramente imbarazzante. Ancora più imbarazzante è la Juve disposta a cerchio, che vi ho messo anche nella copertina del video. Come sapete, Allegri Ball, che ha fatto il giro del mondo. Chi di voi non ha sentito parlare di tifosi di calcio all'estero che non conoscono bene la Juve, non seguono la Juve, non sanno chi è Allegri, rimanere completamente sbigottiti nel vedere che davvero la Juve era disposta a cerchio. A cerchio, con un vuoto totale in mezzo. E ci dicono che serve un regista, no, servirebbe un allenatore a dire la verità. Per non parlare del video che ha circolato finché non è stato poi sospeso per violazione di copyright, ed è diventato virale, su Twitter non solo, del 41esimo, 42esimo, del primo tempo, con il giocatore della Juve a passarsi la palla in orizzontale, Danilo, Bremer, Rugani, Alexandra, Alexandro, Rugani, Bremer, Danilo, 50 volte con nessuno sbocco, tranne quando a un certo punto si prova a dare la palla a quadrato, quadrato è chiuso davanti, invece di provare la giocata, invece di esserci uno smarcamento, uno sviluppo, uno schema, torna un'altra volta indietro. E anche qui, i giocatori quando si stancheranno di tutto questo? Non sono stufi di giocare, tra virgolette, in questo modo? Credo di sì, e se non lo sono lo saranno molto presto, con inevitabili risvolti di mercato. Tra l'altro, questa situazione tattica è grave ed è difficilmente recuperabile, perché non è possibile passare da questo deserto a qualche cosa di fruttifero, di produttivo, nel giro di pochi giorni e quindi, ripeto, e l'ho già detto, io ritengo che questa prestazione, oltre che per una soddisfazione del tifoso, quindi per cancellarla dalla memoria e ritornare ad una soddisfazione nel vedere le partite della Juventus, ma proprio per produrre calcio, servirà tanto tempo. Cancellare questa prestazione nel senso di produzione tattica è qualcosa di molto difficile, perché si parte da un deserto, senza contare l'episodio Miretti-Bremer, anzi, l'episodio Miretti, perché io sono andato a rivedere la partita, mi dovete credere, mi dovete credere, non è vero che Miretti ha corso all'indietro per prendere la palla di testa. Una cosa che Allegri ha spiattellato a tutte le televisioni e a tutti i microfoni, la prima cosa che ha detto a momenti a Dason è stata che Miretti ha corso all'indietro di testa e stavamo prendendo gol da Quagliarella nel finale, all'ottantaduesimo. Non è vero, c'è un rilancio del portiere, di Audero, la palla che spiove nella nostra metà campo, lato centro-sinistra dove è Miretti, Miretti indietreggia per posizionarsi a ricevere, poi si ferma dopo essersi guardato a destra e sinistra, vedendo che non c'erano avversari, quindi non avrebbe dovuto fare duello aereo, è pronto a prendere la palla di testa, ma gli arriva da dietro Bremer a dargli fastidio, Bremer che ha tutta la visuale, vede che Miretti sta per ricevere, potrebbe chiamare palla se ritiene di doverla prendere lui, esce rompendo la linea e lasciando una voragine alle sue spalle, a quel punto Miretti sbaglia, la palla finisce dietro e Quagliarella dopo un paio di passaggi può andare al tiro, e la colpa sarebbe di Miretti? Non è vero che Miretti ha corso all'indietro prendendola di testa, così come non è vero che l'ha fatto Ken su corner dove c'era lo stesso Bremer, è colpa di Bremer tutte e due le volte, perché entrambe le volte Bremer era dietro e poteva chiamarsela, e non l'ha chiamata evidentemente, o comunque è andato a disturbare lui, Miretti e Ken. Allegri per non prendersela con Bremer, che ha fatto una voragine anche sull'occasione di Lerì contro Perin, che ha deviato miracolosamente sulla traversa, se la va a prendere con Miretti e con Ken, che non sono colpevoli veramente di nulla. Ma anche ammesso, possiamo andare a sottolineare questo dettaglio nel momento in cui la Juve si passa la palla in orizzontale per due minuti senza sbocchi, è disposta a cerchio, non riesce a passare i palloni a Vlaovic, ecco. Ma a questo punto veniamo ai numeri che sono veramente imbarazzanti di questa partita, rimarcando ancora una volta, ripeto, che anche se si dovesse battere la Roma, ma poi vincere anche tre partite di fila, non può bastare a cancellare una prestazione totalmente vuota, serviranno prestazioni, non vittorie, prestazioni importanti che smentiscano l'incapacità di questa squadra di fare calcio e l'incapacità di questo allenatore di allenare questi giocatori. Partiamo dal primo dato. Ho sommato i passaggi effettuati, fonte in stat, da parte dei nostri difensori, 5, perché Alexandro è stato sostituito da Descichio a metà partita, e ho ottenuto questo dato. I passaggi di Bremer, che è stato quello che ne ha fatto più di tutti, 100, più quelli di Rugani, più quelli di Danilo, anzi no, forse più di 100 Bremer, comunque Bremer, più Rugani, più Danilo, più Descichio, più Alexandro, fanno 310 passaggi, il totale della Juventus è stato 462, il che significa che questi 5 giocatori da soli si sono passati il 67% dei palloni della Juventus, hanno effettuato, anzi, il 67% dei passaggi della Juve, quasi il 70%, anzi, siamo praticamente ai due terzi, è ammissibile una cosa del genere, cioè i difensori, e non ho considerato Perin, i difensori hanno fatto i due terzi dei passaggi, e significa che non abbiamo proprio giocato, e questo perché poi vai a vedere il possesso palla e dici, eh però la Juve ha fatto 53 a 47, quindi abbiamo vinto il possesso palla, sì, ma che possesso hai fatto? Quello lì, orizzontale, con i difensori, senza alcuno sbocco, e quindi anche la precisione dei passaggi, che secondo Instat è stata 87% Juve, 88% Sampdoria, secondo altri 88% Juve, 84% Sampdoria, non capisco questa discrepanza, ma va bene, leggermente al di sotto il 90%, dici comunque non male, è dovuto al fatto che si sono passati la palla addosso, senza nessuno sviluppo, in maniera totalmente piatta, totalmente piatta. D'altra parte, la metto adesso perché sennò poi me ne dimentico, le hitmap di Lega Serie A, ecco, guardate, tra prima e secondo tempo, qual è la mappa di calore della Sampdoria a sinistra, e quella della Juventus a destra. C'è ben poco da dire sul fatto che, almeno la Sampdoria, ha provato a fare gioco pur con meno possesso. Altri dati dicono che i passaggi sono stati 427, la Samp a 462 la Juve, e riusciti 374, la Samp a 400 la Juve, precisione, già ve l'ho detto, la Samp ha fatto 640 azioni, la Juve 684, riuscite entrambe con l'81%, quindi dici, ci sono equivalze le due squadre, come percentuale di azioni riuscite, e non è neanche male 81%, 519 la Samp a 554 la Juventus, tiri totali 9 a 8, secondo la Lega Serie A sono 10 a 10, anche qui qualche discrepanza, di cui però nello specchio, 1 la Samp, quello di Lerì che è stato parato da Perin, e 4 la Juventus, XG 0,83 a 0,69, quindi comunque la Samp, nello 0 a 0, o nell'1 a 1, che sarebbe dovuto uscire naturale da questa prestazione, avrebbe magari meritato una virgola in più, cross, bello sui cross, perché noi dovremmo essere una squadra che crossa, ora la Samp adora ne ha fatti 4, e ha sbagliato tutti e 4, noi ne abbiamo fatti 11, ne abbiamo azzeccati 3, cioè meno del 30%, meno del 30% che sinceramente è basso, poi, per quanto riguarda gli intercetti, i contrasti, le palle contese, le palle perse, i recuperi, gli interventi di pressing, così come quelli riusciti, anzi, sul pressing riuscito c'è una leggera differenza, su tutte queste cose c'è praticamente parità, quindi tutte queste cose, tutti i discorsi sul recupero del pallone, le palle perse, le palle a metà a metà, c'è stata un'equivalenza tra Sampdoria e Juventus, sostanziale, quindi le due squadre si sono equivalse, e questo dovrebbe essere un dato positivo, direi assolutamente di no, l'efficacia del pressing, dicevo, perché gli interventi di pressing calcolati da Instat sono 13 a 15 a favore della Juve, che però ne ha portati a termine 8 a 4, quindi la Juve è stata più efficace nel pressing, 53% a 31%, ma non sapevamo poi che cosa fare con il pallone recuperato, poi per quanto riguarda anche gli sviluppi offensivi, le penetrazioni nella metà campo avversaria sono state 49, la Samp 44 a noi, e già qui è un dato negativo, verso la tre quarti avversaria, 25 la Samp 30 a noi, e qui ci siamo un po' rifatti, nell'area avversaria 10 la Samp, 8 noi, cioè siamo riusciti a penetrare meno della Samp nell'area avversaria, sviluppi offensivi 53 a 44 per la Samp Doria, proprio nel senso di azioni manovrate, contropiedi 11 pari, quindi anche qui parità, ma a parte questi dati Instat, ci sono altri dati invece, Lega Serie A, che ci dicono veramente, su che cosa veramente la Samp Doria ha prevasto, ma veramente su che cosa la Juve è stata davvero penosa e lagunosa, e cioè la percentuale di passaggi in avanti, passaggi riusciti in avanti, è stata del 44% la Samp, 28% la Juve, cioè tra tutti i passaggi riusciti della Samp Doria, su tutti i passaggi riusciti della Samp Doria, il 44%, quasi la metà, è stato in avanti, per la Juve il 30%, il 28% è stato in avanti, quindi significa che il 70%, che guarda caso è quasi la percentuale dei passaggi effettuata sul totale da parte dei 5 difensori, non è stata in avanti, quindi è stata all'indietro o in orizzontale, quindi veramente senza sbocchi, poi anche i tocchi di palla dei titolari, quindi di quelli che hanno fatto almeno 45 minuti, vanno nella Samp Doria da 17 minimo a 60 massimo, con una distribuzione quindi più equa, maggior coinvolgimento dei vari giocatori, per la Juve vanno da 9 Locatelli a 100 Bremer, scusatemi Locatelli, 9 Vlaovic, non Locatelli, sbagliato a scrivere, 9 Vlaovic a 100 Bremer, questa è una forbice troppo ampia, non può Bremer fare 100 tocchi di palla e Locatelli farne tipo 32, 32 dovrebbe essere il regista, cioè un terzo, Vlaovic 9, di cui uno era pure il calcio di inizio, se ne è parlato tanto, ne ha fatti 3 nel primo tempo, Vlaovic intuitivamente ha fatto meno tocchi di entrambi i portieri, perché se lui è il peggiore della Juve ne ha fatti meno di Perin, se nel Torino, chi ne ha fatti meno, nel Torino, se nella Sampdoria chi ne ha fatti meno è stato, ne ha fatti 17, ne ha fatti quindi il doppio di Vlaovic, capite che veramente è una cosa insostenibile, e poi magari ce la si prende con Vlaovic, che deve essere sereno, Vlaovic andrebbe servito. Poi altri due dati, il baricentro in effetti ci dice non tantissimo, perché il baricentro nel primo tempo è stato 53 metri la Samp, 48 la Juve, quindi Samp più avanti, secondo tempo ci siamo invertiti, 50 metri la Samp, 53 la Juve, e il baricentro di possesso ha 54 metri la Samp, 52 la Juve, di non possesso 48 la Samp, 49 la Juve, anche qui non grande differenza, ma il dato che insieme a quello dei passaggi in avanti ci dà secondo me la fotografia più terribile di questa prestazione è quello sulla percentuale di rischiosità dei passaggi, è un dato calcolato da Lega Serie A, da Virtual Coach Lega Serie A, che viene calcolato per tutti i passaggi riusciti da qualsiasi giocatore, per calcolare quanto è stato rischioso passarsi la palla, quindi quanto si è cercato di andare progressivi, di rompere le linee, di andare in avanti, ecco, la percentuale di rischiosità del passaggio della Samp Doria va per i migliori 5, per i migliori 5 giocatori, dal 25 al 53% di rischiosità, cioè quello che ha effettuato in media i passaggi più rischiosi nella Samp è arrivato al 53% di rischiosità, ma nella top 5 abbiamo come minimo 25%, nella Juve si va da 18% a 23%, cioè il migliore della Juve ha un indice di rischiosità, una percentuale di rischiosità del passaggio inferiore al quinto migliore della Samp Doria. Credo che non ci sia da aggiungere altro, ma da memorizzare veramente questi dati, questa prestazione, questo schifo, fatemelo dire, perché non possiamo cancellarlo neanche con dei semplici tre punti. Grazie per la vostra attenzione davvero a questo video che non ha senso, parlare di tattica in Samp Doria e Juventus non ha senso, e qualcosina in più l'avrei anche potuto dire, ma cerco di andare un po' più leggero e snello per non appesantire il discorso, che già è abbastanza pesante, quindi buon dibattito nei commenti per far notare magari anche altre cose che non ho sottolineato, quindi aggiungete pure liberamente quello che volete a quest'analisi e comunque mettete like se il video vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto, per non perdere i prossimi video, e abbonatevi a partire da solo i 99 centesimi al mese a questo canale per sbloccare tutte le chat sul mio server Discord, compresa quella in cui si parla di tattica, avere la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita e tra le altre cose partecipare in esclusiva alla chat live dei miei post partita della Juventus. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!